Salve a tutti, sono Marco Ginelli e oggi voglio parlarvi di una delle risorse online più utile per la gestione dei PDF. Il sito si chiama ILOVEPDF. ILOVEPDF è un sito completamente gratuito, è facile da usare e offre una vasta gamma di strumenti per manipolare e gestire i PDF. Che si tratti di unire, dividere, convertire, ILOVEPDF avrà sicuramente la soluzione che fa il caso vostro. Una delle funzioni sicuramente utile è quella di poter unire più documenti o pagine PDF in un unico documento. Questa è certamente utile quando per esempio dobbiamo costruire la nostra tesi oppure dobbiamo produrre un unico report aziendale. Inoltre ILOVEPDF offre anche la possibilità di dividere i documenti. Questa funzione è utile quando si vuole suddividere i documenti in diverse parti oppure per esempio quando vogliamo estrarre solamente una pagina di un dato documento. Un'altra funzione interessante di ILOVEPDF è quella di poter comprimere i documenti PDF. Questa funzione è molto utile quando per esempio ci troviamo di fronte a dei siti che non accettano file particolarmente pesanti. Ma non finisce qui. ILOVEPDF vi mette a disposizione anche un utilissimo strumento di conversione dei PDF in formato Office Word, Excel, PowerPoint. Questo permette quindi di estrarre una parte del documento, di manipolarla, copiarla o utilizzarla per altri scopi. ILOVEPDF consente anche di aggiungere filigrane, numeri di pagina e anche dei commenti. Questa funzionalità la vedo molto utile per chi fa marketing. Infine ILOVEPDF è disponibile anche su qualsiasi dispositivo mobile, il che significa che possiamo usufruire di queste funzionalità sul nostro smartphone, tablet. In conclusione, se avete bisogno di lavorare con i file PDF, vi consiglio vivamente di provare ILOVEPDF. Grazie per l'ascolto e seguimi per altri consigli.